ciao a tutti camillo colleluori uno dei decani degli insegnanti di batteria dell'accademia musica moderna facendo io parte del periodo che possiamo definire preistorico dell'accademia siamo qui nel nuovo corso online amm ad occuparci di hard rock heavy metal hard and heavy e prog metal vi aspetto tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.